Nel dopo partita del derby girifalco Maida, finito con la vittoria del Maida per 1-0 con gol di Torchia, siamo con mister Cossari, un'altra buona partita però senza punti. Sì, abbiamo fatto una grandissima prestazione, sono contento dei ragazzi come hanno interpretato la gara, forse la migliore della mia gestione, però purtroppo facciamo una fatica enorme a finalizzare, quindi abbiamo costruito diverse palle gol, non siamo riusciti a segnare, rimane l'ottima prestazione dei miei, però alla fine zero punti, il Maida si porta a casa l'intera posta in palio e questo dispiace. In effetti si è vista una squadra, soprattutto nella seconda parte della partita, una squadra che ha cercato di recuperare il risultato però evanescenti in attacco e poi in due ripartenze avete rischiato di prendere anche il raddoppio. Sì, vabbè, eravamo consapevoli di questo, quindi sapevamo che loro potevano ripartire, e quindi in qualche modo abbiamo concesso qualcosa nel secondo tempo, però siamo stati bravi a tenerli sempre nella propria aria, a difendere con tutti gli effettivi, poi è normale che in qualche situazione perdi qualche palle e loro ripartono, eravamo consapevoli di questo, abbiamo tantissimo cercato sto pareggio, ci siamo sforzati, non è arrivato e rimangono questi limiti in attacco, vediamo di lavorarci su per cercare di migliorarci. Il prosieguo del campionato? Il prosieguo del campionato, noi quest'anno come dicevo l'altra volta dobbiamo fare un campionato tranquillo, viviamo di partita in partita e vediamo di partita in partita quello che possiamo fare, sicuramente non guardiamo in alto la classifica, viviamo alla giornata, vediamo se c'è la possibilità che possa arrivare qualche rinforzo, serve qualcosa per migliorarci e vediamo se arriva qualcuno. Grazie. Siamo con il mister del Maida Alessandro, mister un golletto è bastato per sbancare Giri Falco? Sì, sapevamo che era una partita difficile perché Giri Falco, soprattutto in casa, è una squadra molto ostica, ha dei giocatori lì davanti che sanno fare molto male, poi è una squadra molto compatta che fa dell'agonismo, sicuramente è la sua arma migliore. Noi avevamo bisogno di trovare e cercare questa prima vittoria in trasferta che stava un po' stonando in questo nostro cammino, che in casa fino ad adesso abbiamo fatto l'unplaining quindi ci mancava questa accelerazione fuori casa. In effetti nel secondo tempo con la spinta del Giri Falco avete difeso in maniera ordinata e compatta. Sì, direi di sì, sapevamo e abbiamo fatto di proposte di lasciare qualche metro di campo a loro nella prima fase di impostazione per poi ripartire, visto che abbiamo dei giocatori che sono bravi ad attaccare alla profondità, tant'è che abbiamo avuto almeno due grosse occasioni al secondo tempo per poter chiudere la partita, però sono contento perché i ragazzi hanno veramente interpretato la partita nel modo giusto e questa era una partita sicuramente molto difficile, quindi partita importante. Tre punti importanti per avere quella continuità che come dicevo prima ci mancava soprattutto per dare continuità ai risultati in casa, fino adesso fuori casa, eccetto la sconfitta di Mammola domenica dietro, abbiamo sempre fatto pareggi anche se su campi ostici, quindi ci mancava questa accelerazione fuori casa per scalare ulteriormente la classifica e fare il campionato che tutti quanti ci siamo proposti di fare. Ciao! 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 Grazie a tutti.